Ben tornati a Radio Design, io sono Nicola Palumbo e oggi sono in compagnia di Laura Patricia Barberi anche lei docente presso l'istituto di design. Sassà. Sassà, giusto stiamo facendo le prove Sassà. Siamo in compagnia di Giulia Ceccarani. Giulia Ceccarani di Holly. Adesso ti vedi finalmente. Detta Sassà di? Hollywood. Hollywood che non è Hollywood ma è una cosa molto simile. Allora, tieni il microfono un po' vicino. Sì. Eccoci, ora va meglio. Allora, Hollywood cos'è questa? Hollywood. Sì, c'è di mezzo il cibo immagino. C'è di mezzo del cibo ma in realtà il cibo è un pretesto per mangiare, essere felici, digerire e mettere insieme tante altre realtà che fanno parte del territorio tendenzialmente regionale Sì. Cercando anche di promuovere la parte artigianale e noi in effetti l'anno scorso siamo venute qua da utenti Sì. E abbiamo preso anche tanti contatti di gente che aveva partecipato e quest'anno avevamo voglia di essere felici. Fare il botto. Sì. E l'abbiamo fatto evidentemente. Cosa producete nello specifico? Allora, la chiamiamo bottega alimentare. In realtà dentro si producono tanti piatti molto genuini. È una cucina semplicissima. È un po' quello che diciamo è come se tu entrassi dentro la casa di una persona. Sì. Non è il ristorante, non c'è un menù fisso, si lavora tanto con i prodotti stagionali. Facciamo la seconda colazione della mattina perché si apre alle 10 per cui vieni, puoi prenderti una fetta di pane con la marmellata piuttosto che un yogurt con la frutta secca. C'è anche chi a Natale ha fatto colazione con le lenticchie. Beh, questa è una bomba. C'è anche chi ti chiede le uova strapazzate prima di andare in bicicletta. Quindi vizziamo un po' i clienti. Viziate i clienti. Poi c'è il pranzo che è diventato praticamente un pranzo in famiglia in cui ormai chiamiamo tutti i clienti per nome e sappiamo tutte le abitudini alimentari. Nel frattempo è tutta una sorta di esperienza perché abbiamo un artista che vive lì vicino che ci viene a spiegare come non avere la pappagorgia quando ti invecchi. Questo per me è importantissimo perché ce l'ho già. Facciamola vedere in video. Bene. Sassa, prova. E perché sei colorata? Allora, perché Holy Food oggi, diciamo che all'interno di Holy Food porta avanti un progetto che è legato all'illustrazione. Sono un'illustratrice e quindi mi sono sposata con le altre due socie in... E un menage a trois artistico. Un menage a trois artistico. E oggi abbiamo proposto un laboratorio per bambini che era la grande abbuffata. Io ogni volta mi auguro, anche se poi non ci credo mai, che venga un laboratorio fatto in un certo modo ma ragionando da adulta. Ok. E quindi la grande abbuffata trattava di apparecchiare disegnando una tavola perché sarebbero arrivate delle persone a cena. Sì. Bene, del fare erotico tutto questo, beh, lo verrò anch'io la prossima volta. Laura, hai una domanda per il nostro ospite? Sassa, sassa. No, a parte gli scherzi. No, io vorrei capire questo. Qual è la clientela del vostro negozio? Allora, è una bellissima clientela, non per fare marchette alla clientela stessa, nel senso che è una clientela diversa. Prima di tutto è stato difficile spiegare il concetto di un locale che un po' è un ibrido, quindi all'inizio sono tutti un po' di tubanti, guardano da fuori, un po' perché abbiamo... Siamo... le due ragazze sono state bravissime ad arredarlo e quindi lavora tanto sulla memoria perché ci sono i vecchi tavoli in formica, quindi siamo riusciti a prendere anche quella clientela, soprattutto anche donne, che non era stata minimamente considerata nella città. E quindi è una clientela molto silenziosa che però rimane nel tempo, cioè non è stato un oddio, è la cosa nuova, che figata e poi è morta come novità, è una cosa che viene scoperta tutti i giorni. Quindi infatti l'altra domanda che ti avrei voluto fare era proprio questa, cioè come pensate di alimentare poi alla fine questo format, che è un format contenitore. Però come dici tu, se non viene vivacizzato continuamente poi rischia effettivamente di declinare. Quindi quali sono i nuovi progetti a breve termine? Allora a breve termine ci sono sicuramente dei progetti che sono legati proprio grazie alla bottega, che diventa una bottega di idee, quindi come dici te, contenitore. Abbiamo iniziato a scoprire la parte più intima del Ternano, nel senso che poi scopri gente che magari nel mangiare ti dice Ah ma io faccio il fotografo, piuttosto che l'illustratore, il grafico, il cuoco. E quindi l'idea nostra è quella di iniziare a fare delle programmazioni in cui il cliente stesso che frequenta quel locale inizia a raccontarsi, per riuscire a trovare e a capire quanta linfa poi vitale e creativa c'è all'interno di una città anche che non è adesso culturalmente proprio attiva. Quindi l'idea è quella di dare spazio, fare anche delle serate a tema. Siamo diventati anche una sorta di temporaneo cinema perché abbiamo proiettato sulla mia pelle di Netflix l'altra sera, quindi c'è stata una sorta di proiezione. E poi è divertente perché appunto la cosa che funziona e che vedo è questo concetto di casa. Cioè tu vai là e sappiamo i problemi di tutti, le gioie e i dolori dei clienti le sappiamo tutte, quindi siamo anche un po' psicologhe nonostante ne avremmo bisogno anche noi. Tipo una sorta di circolo letterario di oggi insomma, contemporaneo. Anche un po' l'idea di entrare, ci piace il fatto di essere qua per vedere come funzionano le esperienze da fuori e cercare anche in qualche modo di una collaborazione perché poi vedi che le cose quando sono fatte bene uno ci crede funzionano. Sì, abbiamo dei link di riferimento. Allora, io che sono antitecnologica, il link di riferimento c'è la pagina Facebook di Holifood Genuino Market, poi c'è la pagina Instagram di Holifood Genuino Market, poi c'è una mail genuinomarket.gmail.com e poi c'è la mia pagina che è illustra storie di Instagram. Bomba. E poi direi che abbiamo detto tutto. Abbiamo costato anche gli indirizzi di casa, ma insomma. Diamo il tuo indirizzo di casa così gli stalker ti vengono a trovare. Sa, sa, tutti i bambini che hanno voglia di dipingere. Bene, è stata una bellissima intervista, non ti rubiamo altro tempo perché sennò poi ti si attacca tutto il colore addosso. Grazie ancora. Grazie mille a voi. Ciao, ciao, grazie.